Le scene vengono doppiate in sequenza? Esattamente! Si parte sempre dalla prima scena e in ordine si arriva all'ultima. Quello che però può capitare, nel caso per esempio di un cartone animato, di un telefilm o anche di un reality, è cambiare l'ordine degli episodi. Ma nel momento in cui si comincia un episodio, si parte sempre dalla prima scena e in ordine si arriva all'ultima. Baci!